salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video non abbiamo ancora fatto in tempo a realizzare il fatto che il 30 ottobre quasi sicuramente dj lascerà il suo nuovo prodotto il suo primo drone sotto i 250 grammi quando arriva in rete un nuovo rumors probabilmente dj ha deciso di far trappelare questa nuova notizia sull'onda dell'entusiasmo dello skydio 2 visto che comunque sulla rete ormai si parla tantissimo di questo nuovo drone super intelligente con caratteristiche super eccezionali che dj è probabilmente spaventato dall'attenzione che ha tirato questo nuovo drone ha lasciato secondo me trappelare proprio in questo momento questi nuovi rumors cioè l'arrivo a gennaio 2020 di un nuovo drone il dj mavic 3 secondo me tutto questo è combaciato perché dj si è un po' spaventato di questi preordini che sicuramente ha avuto lo skydio 2 quindi probabilmente vendite mancate che verranno da parte di dj e questa super attenzione che ha tirato questo skydio 2 probabilmente ha spaventato un po' dj che secondo me da tutto questo ha fatto trappelare queste notizie che non ha più tenuto magari totalmente segrete appunto per aggirare un po' l'attenzione ancora verso di lui quindi sembra da notizie molto affidabili che questo mavic 3 arriverà a gennaio 2020 le caratteristiche principali saranno che sicuramente monterà un ricevitore adsb cioè questi ricevitori che dj aveva già annunciato che da 2020 avrebbe montato su tutti i suoi droni sopra i 250 grammi quindi monterà questo ricevitore che è un ricevitore che permette a chi sta pilotando un drone di ricevere nella propria app mentre lo sta pilotando un segnale che indica l'avvicinarsi di un elicottero di un aereo tutto questo per evitare collisioni tra drone aerei e elicotteri quindi dj come annunciato monterà questi ricevitori su tutti i suoi droni e il primo drone che lo monterà sarà sicuramente il mavic 3 poi un'altra cosa che quasi sicuramente avrà da tutti questi rumor trappelati in rete infatti casualmente trappelato anche questo rumor un active track 3 per migliorare l'intelligenza del volo autonomo del mavic che comunque è buona ma non è a livello di uno skydio 2 quindi per competere o per avvicinarsi lo scadio 2 avrà un active track 3 poi ragazzi avrà una camera che sarà simile a quella attuale solo migliorata ma molto simile nelle prestazioni avrà sembra locusync 2 quindi quello che c'è attualmente anche perché tanta roba quindi non ci sarà ancora locusync 3 e queste ragazzi sono le notizie che attualmente sono arrivate in rete e che sembrano abbastanza affidabili anzi molto affidabili sia a livello di data di uscita sia a livello di caratteristiche poi ovviamente più si avvicinerà gennaio e più le caratteristiche tecniche saranno precise però sarà stato un caso vi ripeto ragazzi ma io ai casi così non ci credo molto secondo me dji comunque ha visto che l'attenzione verso skydio 2 è diventata veramente importante e secondo me ha fatto scappare fuori questi rumors non tenendo totalmente tutto segreto casualmente sia la data di uscita molto imminente cioè gennaio 2020 e sia il fatto della tip track 3 casualmente proprio una cosa che lo renderà magari più simile possibile allo skydio 2 visto che adesso ci sarebbe stata molta differenza tra mavic 2 a livello di intelligenza artificiale rispetto allo skydio 2 quindi ragazzi siamo ancora sulla fase dell'entusiasmo del aver saputo che il 30 di ottobre quasi sicuramente verrà rilacciato il mini mavic che già dji ci catapulta nel 2020 a gennaio quindi proprio inizio 2020 con questo mavic 3 quindi ragazzi rimanete sintonizzati qua sul canale perché ogni notizia ogni novità ogni rumor se cercherò di portarla per tenervi informato perché ragazzi è bello anche sapere tutte queste cose che nel 90 per cento dei casi quando questi rumor arrivano su determinati siti quasi sicuramente è quello che poi succederà è difficile che sbagliano quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato tutti questi nuovi rumors sul mavic 3 vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale telegram offerte se non l'avete ancora fatta se vi va e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video una recensione un rumor su un testo un volo di tutto di più ciao ciao